salve ragazze buongiorno buongiorno benvenute questo il mio canale io sono Zahira siamo qui a realizzare il messaggio del giorno per voi quindi io faccio immediatamente la presentazione di tutte le carte abbiamo i tarocchi della zingara i tarocchi di astrella i tarocchi moderni solo arcani maggiori poi abbiamo le sibille le norman abbiamo i tarocchi dei marsiglia arcani maggiori e minori abbiamo i king dell'amore abbiamo le l'oracolo risponde cioè le carte della divinazione abbiamo i messaggi magici delle fate per un consiglio parte anche può essere collegato al messaggio ma anche una cosa che non ha niente a che vedere con il messaggio e poi come indicazione abbiamo le nostre carte verdi di Zahira quindi io inizio subito ragazze e vado immediatamente a mischiare queste carte quindi andiamo a vedere queste carte tarocchi della zingara solo arcani maggiori che consiglio che suggerimento cosa ci vogliono dire relativo a quest'oggi per quando riguarda il messaggio del giorno per voi sapete che il messaggio non è un messaggio che riguarda solo oggi no potrebbe essere che riguarda solo oggi ma io l'ho inteso come un messaggio che vi deve arrivare oggi ma può essere una cosa che riguarda anche una cosa futura del passato che ancora deve concludersi un desiderio una speranza insomma poi sapete voi ciò che portate dentro verrà fuori sicuramente ovviamente ragazze siamo qui per divertirci per intrattenerci piacevolmente quindi prendiamo tutto con le dovute cautele quindi mi raccomando soft poi è chiaro che che per chiunque voglia analizzare una situazione che gli sta a cuore e lo sapete con interattivo insomma è un po difficile perché le energie sono collettive quindi lì se volete se volete fare un consulto personale lo volete fare con me nella descrizione del video ci sono i miei contatti zairafassere gmail.com oppure nel mio profilo facebook zairafassere messaggio privato o ancora nel mio profilo instagram zaire sui tarocchi messaggio privato allora ragazzole mie ragazzole mie io vi ringrazio sempre di essere molto carine con me di commentare di venire nei commenti vi fa piacere sapere i vostri riscontri e insomma sapete che questo da mi dà sempre più l'energia per continuare così a sfornare tutte queste bei interattivi sempre sperando con molta umiltà che vi piacciano allora volevo anche dirvi ragazze che se non siete iscritti e vi piace vedere i miei interattivi e volete contribuire alla crescita del canale un'iscrizione a voi non costa proprio nulla è un semplice click non comparire neanche a livello di privacy invece per noi è un sostegno del canale molto importante per poter andare avanti quindi vostro like e soprattutto una vostra iscrizione a noi ci aiuta tanto quindi grazie se decidete di farlo e grazie a tutti coloro che l'hanno già fatto per coloro che l'hanno fatto il like insomma è sempre una gratificazione che noi ci aspettiamo quindi grazie in anticipo per tutte coloro che in qualche modo diciamo faranno questo like questa iscrizione eccetera eccetera allora ragazze ovviamente ovviamente sapete che tutto quello che uscirà da questo interattivo non lo decido io non lo decide nessuno insomma magari inconsciamente lo decidete voi ma quasi neanche voi decidete più che altro l'energia quella lì predominante no infatti si parla quasi sempre di sentimenti perché evidentemente chi segue gli interattivi questi canali è molto più per i sentimenti che per le altre ragioni cioè la maggioranza sta sui sentimenti allora andiamo a vedere toc 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 le carte verdi di zaira queste sapete sono l'indicazione di questo messaggio di oggi vediamo che indicazione ecco qua ragazzi ti voglio bene di qua almeno partiamo bene insomma partiamo in una situazione dove almeno c'è l'affetto vediamo con calma cosa vuol dire questo ti voglio bene allora intanto il consiglio la cosa diciamo che vi deve arrivare al di là del messaggio o unita al messaggio è la carta del matrimonio vedete questa carta che ci dice ci dice le fate si stringono a te celebrando le gioie del matrimonio quindi questa carta vi preannuncia un matrimonio ragazze ma che bello o comunque un'unione voluta dal cielo andiamo a vedere abbiamo il papa e qual matrimonio c'è qual matrimonio c'è perché il papa è proprio simboleggia l'unione ufficiale quindi è proprio il marito poi abbiamo il mondo ma bella questa stesa il bagatto ragazze preparate e preparate il vestito i confetti qua abbiamo la carta dello zodiaco ragazze qua tutto è bello ecco qua ci sono insomma un po di vabbè un po di cose che si devono raddrizzare ma poca roba poi abbiamo la carta numero 59 dei king il dissolversi ok anche questo però comunque non è male tutto sommato girare in tondo questo ecco questo ci invita a non ripetere sempre le stesse cose questo ci invita a non ripetere sempre le stesse dinamiche allora da che cosa partiamo qua ragazze questa stessa è molto intanto voglio partire dal centro quindi dal centro che c'è appunto questa carta dello zodiaco che ci parla di desideri vedete la carta di desiderio di desideri quindi qua è come se voi finalmente avete la chiarezza avete avuto questa rivelazione insomma avete esaudito questo desiderio di che cosa siete voi siete stati quasi artefici della vostra fortuna con astuzia insomma in senso buono con amore con anche con abilità e con abilità siete state capace di costruire che cosa questa unione vedete qua il papa proprio ci parla di una persona che ci protegge di una persona leale indulgente e anche l'assenso che decide a favore quindi come se voi con la pretto protezione di qualcuno anche può essere la protezione divina siete arrivata alla siete arrivate o arrivati alla senso che qua un'unione si doveva compiere un matrimonio una convivenza una conoscenza questo poi sapete è simbolica la carta del matrimonio non è che per forza vi siete dovute sposare o siete sposati qua c'è la realizzazione dei vostri progetti desideri la ricompensa gli avvenimenti favorevoli finalmente la felicità e il trionfo del mondo quindi fin qua dice tutto bene dice ma allora che mi manca non mi manca niente abbiamo pure la carta dell'affetto ti voglio bene quindi qua comunque c'è un sentimento però vedete questa persona questa situazione in qualche modo ha subito qualche ingiustizia qua c'è stato una falsa amicizia un qualcuno che forse si è comportato male ci potrebbe essere stato un tradimento perché questa carta ci parla anche di pene d'amore di liti insomma qua c'è stato un qualcosa che ha disunito un po questa situazione quindi voi vi siete trovati con la carta 59 dei king che in amore significa necessità di maggiore disponibilità con il padre con il partner per chiarire e come dire e riconciliarsi per chiarire riconoscere riconciliarsi e comunque può significare anche la necessità anche di porsi a livello amicale anche con il proprio partner cioè noi dobbiamo essere un po tutto no anche un'amica una confidente una mamma un amante una donna innamorata insomma la necessità di complicità ecco quindi qua questa carta vedete girare in fondo mi invita a non tornare a rifare sempre le stesse cose come se voi in qualche modo con queste liti con questa diciamo poca disponibilità che la persona forse non so se si parla di voi o della persona o di entrambi è ci deve essere una maggiore disponibilità con il partner e quindi poi ritornare un po riflettendo al meglio e andare un po a come dire con il chiarire il ricominciare il riconoscersi quella complicità perduta qua si deve riflettere e il rapporto ritornerà buono e sarà nuovamente un rapporto prolungato se non fate questo qua rischiate di ritornare a rifare le stesse cose cioè nonostante c'è tutta questa bella energia comunque di una di un rapporto che è anche bello perché c'è la protezione c'è l'unione c'è la realizzazione siete artefici della vostra fortuna c'è anche anche le stelle vi danno lo zodiaco vi dà la sua adesione però ripeto c'è c'è qualcosa che non va bene forse qua vi do un altro suggerimento che mi viene da dirvi che forse qua qualche falsa amicizia è qua bisogna chiarire anche con qualcuno che si si prospettava amico o amica o amici e non sono invece risultati tali potrebbe essere che sia insinuato una persona amica a voi nel vostro rapporto oppure ha messo in ciuci ha messo delle delle cose ha fatto sì che voi avete avuto un momento così di insomma di di pena d'amore quindi però riflettete al meglio non cercate di non fare gli stessi errori cercate di cambiare il giro di boa e rapporto sarà buono e prolungato questo era il messaggio di oggi per voi ragazze io vi aspetto tutti nei commenti vi aspetto per i riscontri fatemi sapere sono curiosa vi mando un abbraccio un bacione enorme e vi auguro una meravigliosa giornata e vi do appuntamento domani ciao